cerco di farvi di darvi ancora un po di esempi su quale dovete pensare c'è mi viene in mente la teoria di darvi che dice che noi siamo trasformati dalla scimmia però esiste un anello mancante come allora tu una teoria me lo spari come verità invece c'è un anello mancante perché c'è un anello mancante perché questo neandertal e questo cromangon che sono vissuti insieme e che tutti hanno detto che il cromangon che il neandertal è il no come il cromangon è l'erede di neandertal non è vero ieri ho visto un articolo pubblicato nelle scienze in cui non è vero sono due razze diverse che hanno vissuto insieme il neandertal non si sa per quale motivo è sparito io lo so però comunque quello è la tema di un altro discorso questo neandertal e questa scimmia tutti dovrebbero avere una rh positive invece esiste anche un rh negative che non viene dalla scimmia io ce l'ho e per questo per questo rh negative il mio secondo figlio è morto è morto perché a quei tempi non c'era una tecnica per impedire che il mio corpo aggredisca il mio figlio perché questo rh negativo capisce che il mio figlio è un parasita e allora lo attacca il mio corpo uccide il mio figlio come mai questi quelli con la rh negativi sono persone un po diverse sono persone a quale l'ids non si prende non puoi prendere questa malattia non lo fai poi sempre con la teoria questa teoria di darwin come mai in migliaia di anni nessun nessun animale non si è mai trasformato come siamo trasformati noi siamo rimasti senza pello siamo rimasti senza coda ci è venuta la voce non abbiamo più i artigli abbiamo le mani non abbiamo cioè non lo so sono le cose a quale uno scienziato vero non ti può rispondere perché non sono le risposte tu per rispondere onestamente a queste cose ti devono dire che sei stato trasformato geneticamente perché in un altro modo queste differenze non si fanno da migliaia di anni la volpe è rimasta la volpe cioè non ti possono dire come mai una pianta che non fa fiori fa fiori si fa fiori perché io sono intervenuto geneticamente su quella pianta solo così fa più fiori se no nasce muore e rinasce sempre senza fiori non si può pensare sempre quello che ti dicono loro perché così hanno scoperto ti sparano le minchiate e tu devi dire sì perché c'è l'uomo di scienza che me lo de me l'hanno detto no anche loro imparano dai libri prendi libri e farti delle domande non è che sono più su di te se lo vuoi la guerra climatica sì non sono le scie chimiche non sono le scie chimiche perché non li vuoi vedere ok ma farti delle domande come mai che oggi come nessuna volta esiste una violenza fantastica di tutti questi fenomeni come mai sono delle stranezze in questi fenomeni sono la loro manifestazione è diversa sono tuoni e fulmini senza pioggia come mai ci sono delle cose su quale devi pensare perché non sono come una volta perché abbiamo modificato noi perché noi abbiamo distrutto il pianeta no non è vero noi non abbiamo distrutto niente loro l'hanno distrutta e ci mettono tutto sulle nostre spalle la salute la farmacia no sono i farmaci che vai prendi due paghi uno ma che stai dicendo mi dai da mangiare come è possibile perché fanno questa cosa qua per farti ammalare creano le nuove malattie hanno fatto i virus e ebola sono due virus per quale gli stati uniti della me d'america hanno un brevetto di invenzione non sono venute dal cielo sono delle cose fabbricate per quale hanno un brevetto loro distruggono l'umanità e voi non vedete non volete aprire gli occhi i vaccini che è l'obbligo di fare il vaccino è tutto pieno di mercurio e i nostri bambini li fanno a mosciare da piccoli poi c'è il controllo obbligatorio ma che buoni che siete il controllo obbligatorio dove ti inventano sempre una cosa hai sempre una cosa tu non senti niente stai bene però loro ti hanno trovato una cosa devi iniziare le procedure devi ma vi svegliate è tutto un mercato siete merce per loro non pazienti aprite gli occhi perché non è così state nelle borse con delle medicine perché mangiate merda e non volete capire su questa cosa voglio dirvi un altro il codex alimentarius per quale cosa noi mangiamo merda perché hanno inventato un pacchetto di leggi che si chiama codex alimentarius in quale ci hanno detto che la terra non ci può nutrire la terra è finita non ci può dare da mangiare allora loro devono fare le medicine da mangiare chimico noi mangiamo dei chimicali non mangiamo mangiare quelli sono prodotti chimici dove loro hanno inventato il gusto il gusto di quello di quello quello cioè cioè tu mangi merda con gusto di mela con gusto di perché perché la terra non ci nutre ma volete aprire gli occhi volete guardare quanti migliaia di chilometri di terra non sono utilizzati ma volete vedere quanti quanto quanto tu fai una produzione sullo stesso pezzo di terra è giusto che quello non ti da la la raccolta giusta perché è già finita devi cambiare ma loro non vogliono no solo su quella si deve seminare il resto no no il resto no poi ti dicono no la terra non ci nutre no la terra nutre anche doppio di quanti migliaia di formiche siamo in questo momento perché la terra non ti nutre perché loro ti dicono questo ma non perché la terra non ti nutre ti hanno fatto le città chiuse dove tu non puoi costruire se costruisci devi pagare a loro perché se no non puoi costruire non puoi andare più fuori di queste città perché per farti vedere che siamo in tanti e non abbiamo più posto ma se tu vuoi andare a farti una casa nella cima di più alta montagna non ti lasciano perché tu sarai libero per quello vedete le cose come ci sono non fatevi delle dei dei sogni questi sono sogni sognate svegliatevi non è così che stai davanti al televisore che ti dice si fanno tutti si fanno le seghe mentale tra di loro e tu stai con occhi spalancati a guardarli no ragazzi alzatevi non è così l'uomo può stare la mia nonna la mia nonna non aveva un cazzo la mia nonna aveva una casa dalla terra fatta dalla terra che oggi dopo duecento anni sta ancora in piedi quella casa che io amo da morire che sta in piedi ancora così in quella casa che aveva sopra le paglie poi ha iniziato pian pianino a mettere un altro un altro coperchio un'altra cosa un altro tetuccio su questa cosa no andava scalza perché lei faceva la riflesso terapia da sola la mia nonna con i piedi non ha mai avuto dei problemi la mia nonna era povera perché era povera perché ha tirato giù tre bambini da sola tre bambini da sola e aveva tutti gli animali aveva le caprete aveva il maiale aveva le tortore aveva le galine le le anatre tutto il suo mais la sua canapa la mia nonna non è mai stata una mafiosa la mia nonna non l'ha mai vista drogata su sul cortile di casa perché aveva e faceva la marijuana in casa sua no la mia nonna con questa canapa faceva ci faceva dei vestiti li metteva nel fuoco con questa canapa questa canapa era loro per lei faceva l'olio e la mangiava mangiava le le sementi di canapa ed era sempre sempre felice e contenta e non è mai morta per questa cioè dovete pensare hanno fatto fuori hanno messo fuori legge una pianta ma siamo diamo i numeri ma non è vero nei 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 i antichi i antichi non avevano le case come abbiamo noi che teniamo denti stretti e pugni stretti la mia casa o la mia casa sono venuti là di me ne è fatto loro non avevano le case loro facevano transumanza e per quelli erano sani e felici perché andavano qua coltivavano la terra prende andavano si si ritiravano da dal dal dalla valle nel cima della nella cima della montagna dove facevano l'inverno e stavano lì con le loro pecore e mangiavano e stavano tranquilli ed è per quello che erano felici ora no siamo in progresso un cavolo di progresso con lavori tu tua tu tuo marito la tua mamma e la tua papà il tuo il tuo suocero la tua suocera e non potete tirare giù un bambino con tutti questi soldi siete ancora infelici quale dove il progresso non c'è il progresso ragazzi c'è il regresso lo dovete vedere lo stato i governi lo stato se ne frega di te lo stato fanno e distruggono tutto e ti mettono tutto sulle tue spalle tu per la tua colpa c'è il riscaldamento globale perché perché tu non hai voluto accettare la macchina con il motore che va con l'acqua e hai ammazzato il suo ideatore e la macchina l'hai presa e l'hai distrutta per quello perché non c'è il petrolio perché vuoi che tutto va con il petrolio il petrolio c'è c'è dappertutto vi stanno dicendo delle bugie delle bugie perché per loro non 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 si tratta dei soldi loro già hanno i soldi ci hanno tutto in mano il potere lui il loro allora che cos'è non è il potere ragazzi è il controllo perché voi dovete essere controllati non dovete avete il tempo di pensare niente zero devi fare e devi stare in riga per avere i soldi perché se no non puoi vivere ma quanto scommettiamo è che se l'uomo vuole può vivere anche senza le vostre merde se la sua mente si apre vedrete come il mondo e gli uomini cambiano e possiamo vivere anche senza lavorare perché ci hanno avete fatto il lavorare il lavorare è per lo schiavo e lo schiavi gli schiavi siamo noi che lavoriamo per voi non per noi noi lavoriamo non abbiamo niente però siamo contenti ragazzi vi svegliate c'è il riscaldamento ma poi ci sono anche tante altre cose